Benjamin Pavard all'Inter, finalmente sì, finalmente ci siamo, si conclude questa lunga telenovela, ennesima telenovela del mercato estivo dell'Inter con il Bayern Monaco che dovrebbe chiudere l'acquisto di Cialoba dal Chelsea e nel frattempo ha allora finalmente dato questo attesissimo via libera a Pavard per raggiungere l'Inter dopo un lungo tiro e molla, durato circa una decina di giorni all'interno dei quali l'Inter ha atteso con in tasca tutti gli accordi e aspettava solamente che i bavaresi facessero di fatto partire il giocatore, l'Inter pare avesse lanciato anche una sorta di ultimatum per la giornata di oggi cosa che è servita anche per mettere un po' di fretta in più e arrivare ad una fumata bianca attesissima con Pavard che allora è atteso, è in arrivo a Milano, atteso in serata allo sbarco in città, visite mediche di rito mercoledì 30 agosto con tutto l'Iter che porterà poi alla firma e permetterà al giocatore di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi un acquisto con cui si chiude un mercato con il botto perché è un acquisto molto importante, molto pesante sotto tanti punti di vista secondo me vorrei quindi condividere alcune riflessioni insieme a voi all'interno di questo episodio di oggi ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto, vi chiedo subito un mi piace, se non lo avete fatto ancora iscrizione al canale e clicca sul tasto iscriviti in questi giorni state continuando a far crescere il nostro progetto, stiamo preparando tante cose nuove da portarvi quindi non perdetevele, iscrivetevi subito e continuate a sostenerci parliamo di Pavarra all'Inter e prima di darvi un po' le mie opinioni, alcune osservazioni che voglio condividervi ricordiamo innanzitutto le cifre e i dettagli di questo affare perché l'Inter ha convinto il Bayern a cedere Pavarra che era in scadenza di contratto nel 2024 quindi si sarebbe potuto liberare a parametro zero per la prossima stagione la convince, convince il Bayern con un'offerta da circa 30 milioni di euro più 2 di bonus, un accordo che come dicevamo era arrivato già una decina di giorni fa ormai ed era vincolato al fatto che i tedeschi appunto dovevano prima ingaggiare un sostituto che a questo punto dovrebbe essere appunto Cialoba del Chelsea come detto col giocatore lo stesso è tutto fatto da tempo, 5 anni di contratto a circa 4 milioni di euro a stagione, beneficerà del decreto crescita quindi farà pesare un pochino meno il suo ingaggio sui conti dell'Inter non vi faccio qui la scheda di Pavarra con le caratteristiche del giocatore perché ne abbiamo già parlato, lo avevamo raccontato tempo fa in un altro episodio, ve lo lascio nelle schede e in descrizione vi consiglio di recuperarlo poi per avere una panoramica completa su questo giocatore se non lo conoscete già faccio invece delle considerazioni a partire proprio dal discorso delle cifre e dico subito che almeno dal mio punto di vista questo è un affare che per tanti motivi possiamo definire in controtendenza rispetto al mercato estivo dell'Inter perché è un acquisto a titolo definitivo innanzitutto con un esborso economico pesante di fatto il più costoso dell'estate di Serie A oppure il secondo più costoso dopo frattesi un altro acquisto dell'Inter se consideriamo la cifra complessiva con riscatto l'anno prossimo ed è un investimento che l'Inter decide di fare su un giocatore fatto finito un classe 96 di spessore internazionale di caratura internazionale che viene acquistato da un grandissimo club come dico sempre io da squadre come il Bayern prenderei se possibile anche i magazzinieri e i giardinieri e considerando poi che questo esborso arriva per un giocatore in scadenza nel 2024 quindi dentro l'ultimo anno di contratto ricorda sotto certi aspetti l'affare Eriksen di tre anni fa secondo me non è uguale però qualche somiglianza rispetto all'affare Eriksen secondo me c'è perché probabilmente oggi Pavard lo paghi tanto considerando la vicinanza alla scadenza però oggi è abbastanza evidente nella rosa dell'Inter una lacuna sia in termini di ruolo che in termini di status diciamo anche come nome come spessore internazionale del profilo che ti manca perché lo ricordiamo lì è venuto a mancare un certo Milan Skriniar e ad un certo punto sembrava che la sostituzione di Skriniar non fosse così prioritaria e non fosse così importante invece serve e almeno io almeno noi su Passione Inter lo abbiamo ribadito e sottolineato spesso all'interno di questo mercato comunque Pavard dicevo lo paghi tanto consapevole però probabilmente del fatto che a parametro zero non saresti riuscito a prenderlo o comunque avresti rischiato tantissimo perché di club ancora più ricchi e disposti a dargli un ingaggio molto elevato sicuramente ne possono spuntare oltre al fatto che come dicevo la doppia lacuna sia in termini di ruolo e di status oggi per me è evidente altre due considerazioni sempre sul tema delle cifre numero uno è evidente che l'Inter quindi la fish pesante di questo suo mercato decide di metterla su un giocatore espressamente richiesto da Simone Inzaghi perché di fatto Inzaghi aveva chiesto pubblicamente pochi giorni fa un difensore importantissimo il fatto che questo acquisto arrivi per me non è un dettaglio banale che cosa intendo è un acquisto che va in direzione di soddisfare una richiesta espressa pubblicamente dall'allenatore visto che molto spesso tutti quanti abbiamo messo in dubbio una sintonia dirigenza allenatore soprattutto l'anno scorso ma di nuovo anche quest'anno Inzaghi tra l'altro storicamente diciamo viene considerato come un'azienda lista che non ha pretese sul mercato questo è un affare che invece va molto in direzione dell'allenatore e non è banale secondo me da sottolineare numero due vengono anche smentite un po' tutte quelle ricostruzioni fantasiose di questa estate dove si diceva che le offerte per gli attaccanti che sono stati accostati all'Inter erano finte oppure non c'erano davvero i soldi ed è stato tutto un gioco mediatico cose che ho sentito dire un po' per tutta l'estate alla fine invece come era stato detto all'inizio mercato l'Inter concluderà impegnando di fatto tutto ciò che è stato incassato e il budget è stato ottimizzato in corso d'opera in base all'opportunità che si sono presentate in base a degli obiettivi che sono sfumati per vari motivi e in base anche alle esigenze che sono state poi condivise con l'allenatore non solo al fine poi di andare ad inserire in ciascuna delle caselle di questa rosa la miglior coppia di giocatori possibile e parlo di coppia non a caso perché condivido per chi ci segue da youtube la nostra schermata con cui abbiamo fatto compagnia in tutta l'estate con la formazione dell'Inter in ogni ruolo ora c'è una coppia di fatto Sommera Odero tra i pali Pavara e Darmian sulla destra De Vraia Cerbi al centro Bastoni Bissec poi vedremo se effettivamente Bissec sarà considerato il vice Bastoni oppure no Barella Fratesi, Ceranoglu Aslani, Mkhitaryan e Sensi io su Sensi tengo sempre un punto di domanda ma tra poco ne parliamo Dumfri Squadrado, Di Marco e Carosso Augusto sulle corsie Lautaro Sanchez, Turan Marnautovic in attacco queste sono le coppie, questa è la rosa dell'Inter una rosa che lo chiedo a voi ma dal mio punto di vista è molto credibile per gli obiettivi di questa stagione che sono stati ribaditi più volte, è una rosa che ha profondità ai ricambi per poter anche variare in base all'avversario che ha di fronte ma cambiare interpretazione anche a gara in corso quindi ci sono soluzioni alternative un po' in tutte le zone del campo è anche una rosa che però se guardo soprattutto all'attacco ma non solo secondo me presenta anche delle incognite che sono legate soprattutto alla questione fisica penso soprattutto a giocatori come Arnautovic, come Sanchez, come Quadrado anche se Sensi dovesse rimanere oltre poi a Mkhitaryan e Acerbi che non sono giovanissimi ma possono confermarsi ecco l'incognita fisica è un'incognita da tenere in considerazione se però questi giocatori stanno bene è chiaro che con questo colpo Pavard che vai ad aggiungere appunto in chiusura di mercato ora l'Inter ha una rosa che secondo molti è stata indebolita soprattutto in alcuni ruoli chiave per me oggi invece con il colpo Pavard la prospettiva cambia e si può dire che ora comunque sì si è cambiato tanto ma è una rosa forte o meglio è una rosa forte pur avendo cambiato tanto adesso per come si stavano mettendo le cose ad un certo punto direi che la chiusura di mercato si può considerare ottima o comunque consegna dal mio punto di vista ad Inzaghi una squadra con diverse alternative anche in termini di fonti di gioco che vanno a sostituire quelle che avevi perso con gli addi di Brozovic, Onan e Dzeko di cui si è parlato tantissimo Pavard oltre ad essere un sostituto degno di Skriniar è anche un'altra fonte di gioco importante che vai ad aggiungere detto ciò il francese chiaramente parte o comunque arriva all'Inter per cercare di fare il titolare c'è un Darmian che non gli lascerà il campo in maniera facile questo è un tipo di concorrenza che sta già facendo molto bene a Dumfries secondo me quindi ci auguriamo che avvenga lo stesso anche in difesa dove lo ribadisco c'era l'urgenza di intervenire perché 42 gol subiti l'anno scorso erano decisamente troppi e oltre a rivedere qualcosa in termini di equilibri difensivi secondo me bisognava intervenire anche sui singoli e in queste prime due giornate è vero che l'Inter non ha subito gol però considerazione 1 gli attacchi del Cagliari e del Monza secondo me sono stati un pochino spuntati considerazione 2 comunque quando la difesa dell'Inter è stata molto alta con tanto spazio alle spalle dei difensori qualcosina ancora da rivedere secondo me c'è stato per cui Pavard è un colpo molto importante adesso tocca a lui arrivare prendersi il tempo di ambientarsi e conquistarsi il posto da titolare confermare poi il suo potenziale che è un potenziale molto elevato vedremo se sarà l'ultimo a fare perché come dicevo io quella piccola quota di incertezza su Sensi me la tengo sempre aperta però le ore ormai cominciano a scarseggiare per fare mercato fatemi sapere di questo poi riparleremo che ne pensate voi del colpo Pavard delle considerazioni che ho fatto a più livelli su questo affare leggerò poi i vostri commenti ovviamente nella diretta delle 19.30 e nel salutarvi vi lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast il link ad un altro approfondimento da non perdere per chi ci segue da YouTube invece vi basta recuperarlo cliccando qui ciao 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 ciao